Sono molto contento di dare il calcio di inizio al progetto Ordinari Eros, ringrazio Monsignor Vicanò per avermi coinvolto per questo bellissimo progetto. Sono felice di partecipare a questa iniziativa Ordinari Eros, sono gli eroi che tutti i giorni compiono atti straordinariamente normali per migliorare il mondo, soprattutto per migliorare il mondo, perciò io nomino ed invito a partecipare Diego Armando Maradona.